Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Sulla FIP-Li, per il ripristino di un incidente, è chiuso il nodo di allacciamento tra la stessa FIP-Li e la 12 al chilometro 76-400 provenendo dal Livorno. Per la viabilità cittadina a Firenze, in via di Novoli è in corso la sostituzione del cordolo di delimitazione della pista ciclabile, restringimenti di carreggiata a tratti e chiusura della pista tra via Pertini e via Val di Pesa fino al 15 settembre. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!